Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo di narrativa contemporanea, che esplora i temi dell'identità, dell'amore e della ricerca della propria autenticità, con un linguaggio pungente e ironico. La trama del libro Pudore della scrittrice Marilena Fengo, pubblicato dalla casa editrice Mondadori, è la seguente. Gaia non ha più voglia di essere se stessa, si rasa i capelli a zero e indossa parrucche, svende i suoi orecchini più preziosi su ebay, si libera dell'armadio e compra un letto nuovo, che poi non sa montare. Vuole ricostruire se stessa e l'ambiente in cui vive a immagine e somiglianza di Veronica, la sua amata, meravigliosa Veronica, da cui è appena stata lasciata. Veronica non è solo la persona di cui Gaia si è innamorata, ma anche la donna che lei vorrebbe diventare, come accade nei primi, furiosi innamoramenti. La famiglia di origine di Gaia appartiene alla solida borghesia di italiani che vivono a Monaco e incarnano tutto ciò che lei rifiuta, la cultura umanistica come sprezzatura e ostentazione, il culto dell'apparenza, la tendenza a delegare i compiti operativi ai subalterni. Veronica al contrario è una donna vitale, concreta, estroversa e solare come la terra da cui viene, il Salento. L'indole di Gaia è lunare, riflessiva, accesa da un'immaginazione sprenata. Il prestante energumeno che le si presenta alla porta per ritirare degli oggetti che vuole vendere non ha la faccia da giù, è decisamente Iwan. Rinominare le persone, interpretare le situazioni in cui si trova è indispensabile per poterle integrare nel suo mondo. In un soliloquio ora arrabbiato e rivendicativo, ora spaurito e ostaggio di una miriade di sublimi ossessioni, ma sempre ironico e pungente, Gaia arriverà a conoscersi meglio e sarà pronta a correre davvero dei rischi per diventare l'individuo che vuole essere. Il romanzo d'esordio di Marilena Fingo, Lingua madre, è stato accolto con entusiasmo dalla critica e ha vinto diversi premi. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.